Appello alla cittadinanza del commissario del comune. Cari concittadini, vi invitiamo a restare a casa e ad uscire solo in caso di effettiva necessità. In questi primi giorni di emergenza e di isolamento, tra l'altro anche di molte persone e di molte famiglie, la Protezione Civile Gruppo Lucano si è messa a disposizione. Siamo nella sede operativa del comune di Senise, in contrada mercato, però qual è la situazione? Cosa ci puoi raccontare? Attualmente abbiamo avuto poche chiamate perché evidentemente le persone non hanno bisogno, si muovono da loro. Noi abbiamo messo a disposizione i nostri volontari per tutto il periodo di questa emergente, l'ultimo DPR. Abbiamo messo a disposizione dei numeri da chiamare 24 ore su 24, naturalmente la spesa la facciamo di giorno, quando sono aperti i negozi. Però se uno ci chiama pure fuori orario, poi facciamo il servizio il giorno successivo. I numeri che abbiamo messo a disposizione sono questi. Abbiamo distribuito queste cose anche nei supermercati, nelle farmacie. Per quanto riguarda la situazione, la popolazione penso che sta rispondendo abbastanza bene.